R è un software ed è un vero e proprio linguaggio di programmazione. Potremmo pensare ad R come ad un ambiente statistico. La sua diffusione oggi è sempre più rapida e crescente perché è un software disponibile gratuitamente, quindi tutti possono scaricarlo sulle proprie macchine e lavorarci in totale autonomia, in modo gratuito, e immediatamente utilizzabile su qualsiasi piattaforma. È assolutamente customizzabile ed inoltre ha una struttura di base facilmente accessibile ai più. R quindi è un linguaggio di programmazione che nasce come un po' un'evoluzione gratuita del linguaggio S. In particolare è stato proposto da due ricercatori del Dipartimento di Statistica dell'Università di Auckland in Nuova Zelanda a partire dal 1996 in collaborazione poi con altri statistici. Viene sviluppato ed aggiornato continuamente, pertanto c'è un team di studiosi e di collaboratori chiamato l'Arcore Team che ogni anno crea una nuova versione del programma e ogni sei mesi una major release che possiamo scaricare gratuitamente per aggiornare il nostro software. E allora vediamo come possiamo scaricare gratuitamente il programma R. Basta andare su un qualsiasi motore di ricerca e digitare per esempio R-Cran. A questo punto otteniamo quindi una serie di link che ci portano direttamente al sito da cui possiamo scaricare per esempio R per le nostre macchine in particolare di Comprehensive Archive Network. Quindi qui abbiamo la possibilità di scaricare R a seconda della piattaforma che vogliamo che abbiamo a disposizione. Quindi R è disponibile per Linux, è disponibile per Mac ed è disponibile per Windows. Naturalmente basta scegliere il formato opportuno a seconda delle proprie macchine e poi seguire la guida per l'importazione. R non è così semplice e immediato da utilizzare perché è proprio un linguaggio di programmazione quindi funziona con linee di comando. Naturalmente sono state sviluppate delle interfacce grafiche molto utili che permettono di facilitare un po' l'apprendimento almeno nelle fasi iniziali ed è quello che suggerisco e sarà fondamentalmente un nuovo strumento associato ad R che usiamo anche nel nostro corso di introduzione a questo linguaggio. Questa interfaccia grafica nello specifico si chiama RStudio. Anche RStudio può essere scaricato gratuitamente dalla rete usando lo stesso procedimento. Quindi in un browser basta digitare, in un qualsiasi motore di ricerca basta digitare RStudio e poi la prima voce che compare è esattamente l'home page di questo software gratuito. Anche in questo caso possiamo scegliere di fare il download e quindi scaricare R sulle nostre macchine. A questo punto, scusate, scaricare R e poi quindi RStudio, l'interfaccia grafica che comunicherà direttamente con il motore di R. A questo punto siamo in grado di poter accedere alla prima volta in cui accediamo al programma semplicemente digitando, andando ad aprire RStudio tra le app del vostro computer. Una volta che aprite RStudio trovate una finestra di questo tipo, divisa sostanzialmente in tre parti. RStudio funziona un po' a finestre, quindi queste finestre tra l'altro possono essere customizzate, cioè si può decidere che posizione devono avere all'interno della finestra generale. Poi piano piano vediamo insieme tutte queste possibilità. Quella che compare inizialmente è la console di R, questo è il vero e proprio motore di R. Nel mio caso ho installato la versione di R 3.5, Joy in Planing. Allora, possiamo usare R come una vera e propria calcolatrice, quindi posizionandoci sulla console a destra del prompt, che è questo simbolo di maggiore, possiamo digitare la sequenza di istruzioni che vogliamo eseguire, come in questo caso ad esempio 3 più 5. Dando invio, nella console compare direttamente l'output. È anche tramite i colori che abbiamo la possibilità di distinguere una riga di comando dall'output corrispondente. Poi vediamo altre finestre, in particolare questa finestra qui in basso, che contiene diverse schede. La prima scheda, file, che corrisponde ad una sorta di esplora risorse del nostro computer, che ci permette in via più agevole di andare a ricercare dei percorsi, dei file che abbiamo salvato nel nostro computer. Poi abbiamo una scheda Plot, che conterrà i grafici che verranno realizzati nella sessione di lavoro di R, e inoltre una scheda che viene chiamata Packages. Questa è una scheda molto importante, perché quando noi installiamo R sulle nostre macchine e accediamo in prima battuta al software, quello a cui accediamo direttamente è il pacchetto base di R, cioè il pacchetto che contiene le funzioni che generalmente vengono usate dalla maggior parte degli utenti. Naturalmente R ha delle potenzialità sconfinate. Noi nel nostro corso riusciremo solamente ad accennare ad alcune, ad un 10% forse, delle potenzialità del programma, ma naturalmente il programma ci permette all'utente finale di fare tantissime cose. Ecco, quindi sono a disposizione tanti pacchetti, un po' come se fossero tanti piccoli satelliti, che contengono delle funzioni specifiche a cui si può accedere direttamente, richiamando il nome del pacchetto. I pacchetti si possono installare direttamente attraverso RStudio, attraverso questa finestra, piuttosto che eseguire il processo precedente che abbiamo visto, quindi andare nel sito del CRAN ed accedere direttamente da browser a scaricare la cartella specifica per il pacchetto di interesse e a quel punto richiamare quelle funzioni specifiche laddove se ne ha il bisogno. Dopodiché abbiamo un'ulteriore finestra, un'ulteriore scheda che è la scheda dell'ELP che contiene una serie di schede per ciascuna delle funzioni del pacchetto di base di R e poi vedremo come accedere all'ELP e inoltre abbiamo un'ulteriore nuova finestra che è la finestra dell'Environmento. Questa conterrà una serie di tutti gli oggetti che verranno definiti mano a mano che lavoriamo con la sessione di R. C'è un'ulteriore finestra che per ora non si vede ma che possiamo attivare dal menu File. Quindi dal menu File possiamo scegliere Nu File e poi R Script. A questo punto la struttura di RStudio ha la classica suddivisione in quattro finestre. Questo che vediamo qui a sinistra perché io ho customizzato la visualizzazione in questo modo è la finestra dello script. Già che ci sono vi faccio vedere come ho fatto a personalizzare la customizzazione di queste finestre attraverso il comando Tools. Quindi attraverso il comando Tools Global Option ho scelto come suddividere la finestra in Pane Layout come suddividere la finestra a seconda di quello che si desidera. Quindi a me piace mantenere la finestra dello script che è appunto questa finestra che abbiamo appena aperto che conterrà la sequenza delle istruzioni che vogliamo poi passare alla console che ho posizionato sulla destra e poi rispettivamente Environment e la scheda quella sorta di Explorer Resource dei grafici e dell'Help in basso a destra. Naturalmente questa è semplicemente una scelta del tutto personale quindi ognuno può fare quello che vuole. Tramite questa finestra è possibile anche personalizzare la visione di R quindi se scegliere un ambience un po' più normale un po' più diciamo di base bianco piuttosto che colorato a seconda delle esigenze. quindi dicevo la finestra di console si può utilizzare come se fosse una sorta di diario di viaggio delle nostre istruzioni quindi proviamo a fare un esempio possiamo scrivere il primo comando direttamente nella finestra dello script e poi passarlo alla console o attraverso il comando run quindi come in questo caso oppure con una combinazione di tasti se usate un Mac Command e Invio per ottenere direttamente l'output che stiamo vedendo nella console. www.invio.com.info